Nell'angolo via Mirabelli, via Pietronenni, siamo alle solite, non tutte plastiche, c'è un lezzo nel suo bondo che fa, sentite la puzza, è respirabile l'aria, non è che siamo solo noi che ci stiamo facendo delle fisime, la telecamera è là, deve essere messa in funzione subito, perché bisogna pulire questi vandali, questi incivili. Vedete, non tutte plastiche, questo è umido.